La difesa dell'imprenditrice Riera Frontino insiste nell'incompetenza territoriale e in udienza ha sollevato la relativa eccezione chiedendo che il procedimento penale che riguarda l'inchiesta sulla Fiera del Sud venga trasferito al Tribunale di Messina. Questo è poco altro emerso dalla prima udienza il processo a carico di Frontino, Rosa Gibilisco, Alfredo Sapienza e Davide Messina che si sta svolgendo dinanzi al Tribunale Penale preseduto da Livia Rollo. Il processo è entrato nel vivo da una falsa partenza dovuta all'astenzione dei due giudici all'atere per incompatibilità rispetto all'opposizione degli imputati. Al vaglio del nuovo collegio giudicante c'è la vicenda giudiziaria emersa dalle indagini delle fiamme gialle con il coordinamento dei pubblici ministeri Lucignani e Grillo. In avvia di udienza gli avvocati Fiaccamento e Gullino hanno sollevato una serie di eccezioni a cominciare dalla nullità del decreto di giudizio immediato. La più rilevante però riguarda l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale siracusano atteso che vi sarebbe una connessione degli atti di indagine sulla Fiera del Sud con l'inchiesta Sistema Siracusa i cui processi sono già stati fissati e sono in calendario per la seconda decada del mese in corso. Sulle eccezioni sollevate alla difesa il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 19 novembre in apertura della quale si scioglierà tutte le riserve.